Brigida, Brigida, la vedi questa valigia sul letto? Questa deve essere la nostra valigia e questa valigia deve essere quella di un lungo viaggio che e te dobbiamo trovare il coraggio di fare insieme tutto quello che e te abbiamo passato dentro a questa valigia non ci può stare se mi lasci non vale E' Maurizio fa cantata Chi è? Ma chi? E' uno che va trovando il caffè Aspetta, chi hanno, chi hanno, Brigida? Ma chi è? Ma vuole il caffè? E non ti appiccicare pure con questo, Brigida Quando c'è? Ha fatto buono a cittare il reggio Prendete l'ora Vuole fare il coppia? Mi tengo i pitbull d'attacco Giovinò, se siete venuti per il caffè eatevi la piglio barra Vicino a me eatevi la piglio barra E' luce scucciata E' luce scucciata No, abbiate pazienza è che siete arrivati in un momento molto difficile Ecco E come comporta questa giustificazione a me? Un momento difficile Allora è facile Ma io quando il mare è in buonaccia ognuno sape fuori di morire Ci mancava solo confuscio stamattina O caffè, a pelle, a piglio barra E' la tua barra Facciamo così, ve lo fico e basta che veniamo al barra A me? O barra A me o barra O barra O barra, 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 barra O barra, o barra, o barra Non è una grigia Ma, vabbè, особi sasso O barra, come un paio comes sasso A me o barra, vi O barra, come un po' O barra Si